Buongiorno, sono Letizia Cremonini, faccio l'architetto libero professionista, sono PhD in progettazione della città, del territorio e del paesaggio. Oggi, 18 novembre, è stata una giornata molto interessante, si è parlato della rigenerazione urbana, in particolare degli ecocwartieri, di tutte le dinamiche che toccano la qualità urbana e lo sviluppo sostenibile. È stato molto interessante poter confrontarmi con dei colleghi che hanno integrato da tutti i punti di vista, dalla qualità architettonica al pacchetto edilizio, all'isola di calore urbano, quindi microclima e quant'altro. È stato piacevole vedere una platea attiva, informata e soprattutto volenterosa di intervenire su tematiche che sono effettivamente scottanti, rimangono scottanti, soprattutto riguardo agli eventi degli ultimi mesi e degli ultimi giorni, a cui sicuramente noi tecnici e noi cittadini tutti dobbiamo dare una risposta effettiva, immediata e stiamo cercando in qualsiasi modo di arrivare ad avere fondi, perché da tutti gli altri punti di vista, più che fondi, elasticità a livello strumentale, strutturale e cooperatività nel lavoro. Perché di fatto gli strumenti ci sono, il come fare le cose l'abbiamo compreso dagli ultimi vent'anni di studi, di ricerche e di cooperazione. Si tratta soltanto di metterci a tavolino rispetto a ogni realtà locale e di definire quelli che sono gli obiettivi da perseguire nell'immediato, partendo dai temi emergenti, senza arrivare necessariamente a un'emergenza territoriale o meglio al dopo emergenza territoriale. Conviene porre rimedio prima, pensando non a un range d'ammortamento negli anni, ma pensando a quelle che sono le tematiche che riguardano la sicurezza dei cittadini, sicuramente oggi, nel futuro, ma guardiamo prima a quello che dobbiamo tamponare oggi, perché ce n'è parecchio da fare. C'è stata promessa una giornata in cui le pubbliche amministrazioni verranno coinvolte per comprendere effettivamente quelli che sono i range, la considerazione dei range d'ammortamento rispetto a ogni intervento che viene fatto sul territorio, per capire effettivamente se anche dal punto di vista tecnico e di ricerca si può aiutare in questo senso. Quindi attendiamo con trepidazione la prossima edizione e con questo vi ringrazio soprattutto per avermi invitato e sarò dispostissima per qualsiasi altra collaborazione. Grazie, arrivederci.